La città piena di persone, piena di napoletani, di turisti. Questa è la città che abbiamo, una città piena di luce, con un grande cuore, un grandissimo 2014. Forza Napoli! Forza Napoli! A Francia che ci va male! Forza Napoli! È un'onda umana, la piazza Pelleviscito a Rotonda Diaz, centinaia di migliaia di persone, tanti sorrisi, tanta gioia, tanti giovani, tanti turisti. È la potenza di Napoli, è la città che amiamo, è la città che vogliamo, è la città in cui vogliamo vivere. Quindi un auspicio più bello per il 2014 non poteva essere. C'è il lungomare più bello del mondo, la città più bella del mondo, tantissimo entusiasmo e io sono veramente felice di passare qui nella mia città questo capodanno straordinario. Grazie a tutti!